No, io pensavo... No, lui è il tuo capofizio, Marta. Non cominciamo ad allaggarci. Era un assemblaggio di, come si dice, di manifestazioni. Non è il colpo di essere ricco. È il cane del ragazzo che è stato torpo, che ha riso. È dalla zia. Ma è stato fatto da forza. Comunque, cari ragazzi, il più doppio è torna della nostra. È vero. È una azione. È un'azione. Ma è un'azione. Il ritmo è un'azione. Il ritmo di fare un'azione. È un'azione. È un'azione. Il ritmo di andare. Valentina! Vieni qui! Valentina! Dove sei? No, ti fai la foto e siamo andati, vieni! Ma fanno bene lo stesso, fanno bene lo stesso Vogliamo i treni di notte! Vogliamo i treni di notte! Vogliamo i treni di notte! Lo Stato consiglia a fare lo Stato e prenda una decisione in questa vertezza importante Non lasci decidere alle regioni, non lasci regiri alle regioni, è solo la politica Quello che dobbiamo fare, i treni di notte sono socialmente utili Ricordiamocelo, anzi ricordatevelo Siamo qua insieme ai nostri figli, alle nostre famiglie e tanti amici Vediamo un pochettino se con la nostra tecnologia riusciamo a farvi dire una parola per le nostre famiglie e per i vostri figli Ci sentite? Alza la voce! Corre! Grandi! Grandi! Sì, ci sentiamo, vai, vai che ci sentiamo Ma vabbè, non c'è nulla Vabbè, non c'è nulla Ma vabbè, non c'è nulla Vabbè, non c'è nulla Grazie a tutti. E quindi noi come Presidente della Repubblica dovremmo prendere una posizione. Ormai la posizione l'abbiamo fatta. Poi ci spiegherai. Poi quando scendete, partiamo questo. Dimmi quando tu scenderai, dimmi quando, quando, quando. Non è che te ne andrà. Ecco, bravo. Grazie a tutti.